E' del tutto evidente che la situazione così come oggi è la situazione peggiore, quindi noi valutiamo positivamente la proposta del consigliere Fermi e la appoggiamo, ma nel contempo riteniamo che ci siano delle soluzioni ulteriormente migliorative rispetto all'accoppiamento delle due opere nel parco dell'Ura. Da qui nasce l'idea di fare una mozione associata che prevede che la Giunta si impegni a intervenire presso gli enti competenti affinché valutino anche delle progettazioni alternative. Perché dico che sono particolarmente impattanti questi progetti, perché con la loro modalità di esecuzione sostanzialmente portano allo sbancamento penso che totale dell'aria, la distruzione dello strato di humus del terreno con impatto sterilizzante. Intaccano fortemente un'aria individuata come corridoio ecologico strategico dal PTCP vigente e appare non compatibile con lo strumento licenziato approvato dalla provincia di Como. I progetti sembrano non tenere sufficientemente conto della natura specifica del territorio che non può essere radicalmente trasformato in una sorta di parco urbano, ma in sé la chiara vocazione di area naturalistica agroboschiva. I progetti inoltre non tengono sufficientemente conto della necessaria tutela del paesaggio esistente. Si tratta di un'area agroboschiva dove la milianaria attività agricola dell'uomo si fonda in armonia con le zone boschive presenti. A fronte di queste caratteristiche chiediamo una revisione dei progetti atti a salvaguardare queste aree naturali esistenti. Per quanto riguarda la laminazione dell'Ura, nella pubblicazione Parco Lura, il riscatto di un fiume edita dal Consorzio Parco Lura nel 2008, si evidenziava che la portata massima dell'eventuale fotorebile a piena centenale avrebbe potuto essere distribuita su un sistema di più vasche lungo tutta la tratta dell'Ura. Lo studio del reticolo idrico principale minore, recepito dagli studi geologici dei comuni di Lomazzo e Bregnano, individuava aree di vulnerabilità idrogeologica, già definite come zone di esondazione naturale, che sfruttavano la morfologia naturale attuale della valle dell'Ura ed in grado di contenere le piene di progetto senza interventi infrastrutturali pesanti, specie nella porzione Valliva. Per quanto riguarda invece le opere idrauliche relative a Pedemontana, consideriamo di gran lunga preferibile l'ipotesi di piccole vasche perdenti, precedentemente previste lungo il tracciato di Pedemontana nel territorio di Cermenate, Lazzate e Bregnano. Ipotesi scartata frettolosamente da Pedemontana perché sostengono il terreno sarebbe impermeabile, ma dall'analisi condotte per conto dell'ente Parco Lura risulta che la semi impermeabilità del terreno è solo superficiale, è sufficiente scendere di due metri e il terreno diventa permeabile e nella topologia costruttiva delle vasche perdenti sono normalmente previsti dei pozzetti di dispersione di otto metri di profondità, più che sufficiente a garantire la funzionalità delle vasche. Quindi sostanzialmente l'obiettivo della nostra mozione è quella di impegnare la Giunta regionale ad attivarsi presso gli enti locali interessati affinché considerino l'opportunità di riproporre le scelte progettuali relative allo sfruttamento della morfologia naturale dell'URA, approfondendo i benefici sul piano ambientale ed economico e ad attivarsi presso i soggetti concessionari per la realizzazione dell'autostale Pedemontana affinché vengano riconsiderate le ipotesi delle vasche perdenti lungo il tracciato di Pedemontana. Quindi la valutazione dell'altra mozione da parte nostra è positiva, ma riteniamo che ci siano delle soluzioni ulteriormente migliorative. Grazie.